Un'altra mostra delle Garderie degli Uffizi che mette al centro l'opera di una donna artista e Joana Vasconcelos nota per i suoi temi femministi ma anche per i suoi dialoghi con spazi storici come nel caso della Sala Bianca di Palazzo Pitti, luogo dove nacque la moda moderna nel senso del pret-à-porter e che ha questi due scarpi monumentali, colossali che sono a tacco 3 metri e 50 più o meno, che si riferiscono con ironia all'immaginario femminile ma allo stesso tempo alla prassi quotidiana perché sono composti da tante tante pentole e per di più anche al genius loci di questa sala dedicata alla moda. Questa mostra quindi si inserisce nella serie di mostre dedicata alle donne artiste iniziate nel 2016 e si inserisce anche con una delle opere che fa parte della mostra alla tradizione che abbiamo iniziato tre anni fa di proporre dei presepi laici, dei presepi quindi che vanno oltre il tema evangelico e infatti dopo Marco Lodola, dopo Maria Casun, qui Joana Vasconcelos propone una happy family nella Sala di Bona per molti sarà anche la prima occasione di vedere la Sala di Bona dopo il restauro spettacolare grazie alla generosità dei Friends of the Uffizi.